Ciao a tutti da The Beach Doctor, video soluzione del Chi vuole essere radiologo di domenica 26 novembre. Vi presentavo il caso di un uomo di 54 anni che si rivolge al curante perché da alcune settimane lamenta distensione addominale, difficoltà a digerire, malessere generale e per tale motivo il suo curante dice intanto facciamo un Rx addome e vediamo. Dall'Rx addome, che è questo che vi ho proposto, vi chiedevo cosa non era vero tra la presenza di versamento pleurico a destra, la presenza di ansie tenuali al fianco destro non sovradistese, l'assenza della bolla gastrica e la presenza di una falce aerea sottodiaframmatica a sinistra. Chiaramente la cosa non vera era proprio quest'ultima perché se noi andiamo a vedere il profilo delle mediaframma di sinistra è questo e al di sotto non vediamo la falce. All'occhio magari meno esperto poteva venire il dubbio da questo lato a destra perché si vede questa piccola radiotrasparenza, però in realtà qui chissà cos'è, nel senso l'occhio molto esperto potrebbe dire vedo questo, vedo anche qua, come se ci fosse una massa, ma qui siamo proprio a un livello super avanzato. Quello che però potevamo dire già col livello base è che c'è effettivamente un versamento pleurico a destra perché vedete che le mediaframma anteriormente a destra lo riconosciamo, sembrerebbe riconoscersi forse questo, ma neanche. In realtà facciamo fatica a vederlo, vediamo questa linea orizzontale con della radio opacità inferiormente, questo qua è un versamento pleurico, non è che c'è tanto da discutere. In fianco destro effettivamente ci sono queste ansette enuali abitate da gas, assolutamente non sovradistese, di calibro regolare. Il colon, devo dire, si fa un po' fatica a vederlo, si intravede forse qua il discendente, ma avrei qualche dubbio. Un ansetta in piccolo bacino che potrebbe essere di sigma, comunque tranquilla, quindi insomma da un punto di vista di morfodinanismo intestinale l'unica cosa da osservare è che non c'è la bolla gastrica, quindi in epigastrio abbiamo una presumibile massa, perché vediamo intorno ad essa dell'aria. Non vediamo la bolla gastrica, quindi si fa già pensare che probabilmente è una massa di natura gastrica quella che ci interessa, e niente. Torna dal medico curante con il nostro referto, in cui non ci siamo azzardati a dire che potrebbe esserci una massa gastrica, ma abbiamo detto che non vediamo la bolla. Il medico vede, il medico in medicina generale vede anche gli esami del sangue eseguiti nel frattempo, da cui emerge che agli esami ematochimici i marker di funzionalità epatica sono un po' mossi, e quindi propone un'ecografia dell'addome. Ecografia dell'addome che viene eseguita, e vi ho lasciato due immagini. Una era questa, e una era questa. Allora, la cosa fondamentale che vi ho scritto è che queste immagini sono prese in epigastrio. L'immagine così, un po' a fagiolo, con la parte esterna nera, con la parte interna bianca, potrebbe far pensare ad un rene all'occhio non particolarmente esperto. Ma non ci vedo la pelvi, vedo questa zona marcatamente ipoecogena, anecogena, all'interno della parte iperecogena. Non è possibile che siano gruppi caliceali, perché hanno un'altra forma, non si sviluppano in verticale, lungo l'asse lungo del rene. Quindi, quando, tra le proposte, perché vi chiedevo cosa potrebbe essere questo, e vi dicevo può essere un rene ectopico, uno stomaco pariti spessite, una colite del trasverso, o una wallet of necrosis, quindi una raccolta peripancreatica. Il rene lo escludiamo per i motivi che vi ho appena spiegato. Peraltro, la prova del 9 vi arrivava dal Doppler. Mettendo il Doppler, non vediamo una distribuzione del segnale ilare tipica del rene, in cui abbiamo il vaso che entra e poi si dirama. Peraltro, i più attenti di voi qui avranno riconosciuto questa cosa qua bianca come un pancreas e quindi avrebbero potuto interrogarsi sul fatto che magari fosse una wallet of necrosis, quindi una raccolta che sta vicino al pancreas. Però, le wallet of necrosis non sono vascolarizzate, invece qui il Doppler ci dice guarda che dentro c'è del segnale, quindi anche in questo caso la wallet of necrosis non funzionava. Vi faccio vedere oltretutto che le avevo pescate delle immagini. Questa qui è una wallet of necrosis, questa parte qui iper-ecogena che vedete è il pancreas e questa è una raccolta che gli sta attorno. Vedete come è molto più disomogenea, non ha questo aspetto simile al rene, tra virgolette, e comunque non è vascolarizzata, quindi avevamo due elementi che ci permettevano di dire che non era quello. Vi chiedevo se poteva essere una collite del trasverso, per carità la sede potrebbe essere quella, però non è una collite del trasverso, anche in questo caso vi ho pescato un'immagine che è questa, vedete che i colori sono invertiti, cioè eventualmente la parte ipere-ecogena è data dalla parete che è edematosa, che è sofferente e che sta all'esterno. E la parte ipo-ecogena o an-ecogena, cioè il lume del colon, sta all'interno. Invece qui vi ricordo che abbiamo questo aspetto simile al rene, torno a dire, cioè ipo-ecogena all'esterno, ipere-ecogena all'interno, con una parte an-ecogena ancora più interna, che quindi non si adatta a quello che può essere l'aspetto della colon nella collite, questa via è un areto-colite ulcerosa, insomma. È un colon discendente, ma l'aspetto da un punto di vista ecografico non cambia del colon in corso di collite. Torniamo al nostro caso principale, quindi abbiamo stabilito che c'è questa massa, che è lo stomaco, ha pareti ispessite, francamente ispessite, quindi il medico curante sulla scorta dell'ecografia lo manda a fare l'attacca a questo punto, con il mezzo di contrasto. Tac, col mezzo di contrasto, io vi ho messo alcune immagini della fase venosa, le guardiamo dall'alto e allora, partendo dall'alto, intanto vedete che c'è questo versamento pleurico, in realtà bilaterale, noi all'Rx torace vedevamo solo questo, perché è più cospicuo, ma c'è anche controlateralmente. Andando a scendere, cosa succede? Allora, questo è l'esofago, torno su per farvelo vedere, ok, questo è l'esofago, sono d'accordo. Scendo, freccia è questa, questa qui è la orta, come sempre al davanti delle vertebre, quindi siamo qui con l'esofago, attenzione, da qui dovrebbe partire lo stomaco. Qui dove ho la freccia ora e lo stomaco e vedete che non vediamo il lume. Ecco perché non si vive il livello idroaereo, perché della bolla gastrica, perché le pareti sono talmente spessite che il lume è virtuale in quel punto lì e questo giustifica anche che il paziente facesse fatica magari a digerire, a mangiare, insomma. Tutto attorno il tessuto omentale è disomogeneamente iperdenso, che è l'aspetto tipico appunto dell'aumenta il cake, cioè dell'infarcimento di edema e della presenza anche di eventuali micronoduli contestuali nel contesto di una malattia di naturale plastica. Abbiamo dei vasi, eccoli qui, che si intravedono in questa zona qui, dei vasi abbastanza robusti che vengono coinvolti, vedete questo qui tutto lo stomaco, che qui adesso ha quel classico aspetto mammellonato che abbiamo imparato che vuol dire ha un aspetto a nuvoletta della parete. Peraltro scendendo, qui invece diventa più omogeneo, l'ispessimento meno mammellonato, lo stomaco è molto lungo, continua a confermarsi l'aumenta il cake tutto attorno. Quello che volevo farvi vedere è questa immagine qui, che è quella che vi ho messo. Osservate che nel contesto dello spessore della parete abbiamo questa zona più ipodensa rispetto al resto. E anche qua sopra abbiamo una zona ipodensa. Queste probabilmente sono zone necrotiche, perché siamo in un esame, in corso di esame con mezzo di contrasto. Se non abbiamo una ipervascularizzazione, o comunque una vascularizzazione del tessuto gastrico, della parete gastrica, molto probabilmente lì abbiamo dei fenomeni di natura colliquativa. E di conseguenza il pancreas, lo vedete qui, è assolutamente regolare, spinto indietro, così vediamo tutto. Questa è la cistifellea, che ve l'ho messa per ingannarvi e spacciandola per una localizzazione colliquata, ma non lo è la cistifellea normodistesa. In realtà il fegato, andiamo a vedere, è assolutamente normo rappresentato, non ci vediamo all'interno focali ipodensità, anche la milza è normo rappresentata. Altre cose che posso farvi vedere in questo esame, beh, quando andiamo poi in piccolo bacino, abbiamo tutto quel fluido che distende il Douglas e che risale un po' verso destra. Quindi, vi chiedevo cosa non puoi dire, andiamo un po' a rianalizzare le quattro opzioni. Vi dicevo, aspetti del limite plastica, lo possiamo dire o no? Assolutamente sì, perché appunto c'è questo interessamento. Possiamo dire aumenta il cake? Assolutamente sì. Possiamo dire aree necrotiche nella parete dello stomaco? Assolutamente sì. Quello che non possiamo dire è la localizzazione colliquata in ambito epatico. Volevo farvi osservare anche come questo processo dello stomaco, allora torno un attimo qui per farvi vedere questo discorso dell'aumenta il cake, vedete nodulino, che probabilmente è un linfonodo, però nodulone, quindi aumenta il cake è sempre l'associazione di disomogenea imbibizione dematosa dell'aumento con la presenza di linfonodi contestuali, di linfodenopatie contestuali. L'altra cosa è che questo qui dovrebbe essere il duodeno e vedete che qui è praticamente inglobato, cioè lo stomaco con la sua patologia interessa è il duodeno ovviamente nella prima porzione, perché non è più riconoscibile, la presumibile, devo usare la parola presumibile, prima porzione duodenale è questa, e poi scendendo questa è la seconda, quindi anche qua non la riconosciamo bene. La terza è questa. No, è colon, top, ecco, quindi mi sono fatto fregare anch'io, probabilmente anche la terza è coinvolta, vediamo se magari la coronale ci aiuta, visto che stiamo vedendo le immagini in Siena. Vedete che torna questo discorso delle ipodensità all'interno della parete di questo stomaco fortemente interessato. Secondo me è questo, vedete che anche la terza porzione è assolutamente interessata. Va bene, arrivati a questo punto, quindi dobbiamo porre la diagnosi, dobbiamo porre un sospetto diagnostico, quale può essere? Molto probabilmente il fatto che abbiamo trovato delle cose da limite plastica, quindi questa parete espessita in modo omogeneo a tratti mammellonati, che abbiamo trovato lo mental cake, che addirittura qui abbiamo un'estroflessione esofitica dello stomaco verso sinistra, che non vi avevo descritto, vedete che parte da qua, qui attaccata, poi venendo in giù proprio è una sorta di ulteriore massa, appendice che si sviluppa da questa cosa. Fatto sta che tutte queste cose qui ci orientano verso il linfoma primitivo, più che sull'adenocarcinoma gastrico. Si aggiunge anche il fatto che non abbiamo, abbiamo dei linfonodi, insomma. La prima cosa da pensare sicuramente è un linfoma primitivo e di conseguenza l'unica opzione che era valida era linfoma primitivo e il bio in corso di esofago gastrododenoscopia. Perché non fare la biotacolo a bioeco, visto che si vede? Perché chiaramente la bio in corso di esofago gastrododenoscopia è gravata da molte meno complicazioni, è molto più semplice da eseguire, possiamo campionare molto di più e quindi è sicuramente l'esame di prima istanza. Per pensare al linfoma secondario probabilmente avremmo dovuto avere delle pataccone linfonodali paraortiche, comunque delle localizzazioni primitive da altre parti che non vediamo, nel senso che è vero che nel contesto dell'omental cake ci sono dei nodulini, però sono robe relativamente piccole in rapporto all'interessamento dello stomaco. E ovviamente pensiamo a una patologia no-plastica, quindi escludiamo l'infezione da helicobacter pylori e quindi l'ureabrit test. Con questo abbiamo finito il nostro Chi vuole essere radiologo di questa domenica e ci vediamo al prossimo video.